Quindi riceverete tutti la richiesta per autorizzare la registrazione sul vostro computer e nel frattempo se altri ragazzi si aggiungeranno, insomma, li ammetteremo man mano. Benvenuti a tutti e buonasera. Allora sono molto contenta e curiosa di ascoltare anch'io l'incontro di stasera che è un racconto che interessa molti giovani che stanno studiando per diventare medici. Quindi abbiamo allargato l'incontro non solo agli studenti di medicina del SISM ma anche agli studenti che sono in formazione specialistica, sono già specializzanti e magari anche qualcuno che è già specializzato è già specialista. Quindi insomma tutti i giovani medici stasera che sono coinvolti per questa serata e per questo motivo insieme a me, oltre alle rappresentanti del SISM che sono Alice Lupato, Norp e Marta Bortolozzo che è referente nazionale del Uolisso Project e magari dopo diciamo anche due parole su questo progetto che insomma insieme con il Junior Project Officer sono i due progetti che Puamo offre ai giovani per partire e fare un'esperienza in Africa. Stasera abbiamo anche Annalisa Napoli per il segretariato italiano Giovani Medici e Federica Viola per Sede Specializzandi. Magari passo subito la parola ad Annalisa che saluta e dice qualcosa e dopo passo ancora la parola a Federica prima di iniziare. Buonasera a tutti, mi presento, sono Annalisa Napoli e sono qui in rappresentanza del CGM. Sono anche un medico di medicina generale e per me è un piacere, per me anche come CGM, partecipare a questi incontri, a questa serie di incontri. A tal proposito ringraziamo Medici con l'Africa QAM per aver organizzato questa serie di incontri del mercoledì e in particolare all'incontro di oggi che offre questa opportunità importante a tutti i giovani medici, come diceva Chiara, sia aspiranti specializzanti che già in corso di formazione specialistica, così come anche già specialisti, di entrare a contatto diretto con quella che è l'esperienza della formazione esterna sul campo in una parte del mondo che è solo apparentemente lontana dalla nostra, ma che presenta tanti punti in comune. È quello che ci dicevamo io e Mattia, telefonicamente, qualche mese fa, quando lui era ancora in Uganda e abbiamo avuto la possibilità, anzi io ho avuto la possibilità di avere già un'anteprima del racconto della sua esperienza in un articolo che ho pensato di scrivere proprio per far capire cosa vuol dire affrontare una situazione estrema come appunto una pandemia, un'emergenza sanitaria mondiale in un campo diretto già complicato di per sé come appunto il territorio africano, nel quale bisogna affrontare delle difficoltà ulteriori, già quotidianamente a prescindere da un'emergenza, da una pandemia in corso, risorse limitate, carenza di mezzi, di approvvigionamento e di un supporto adeguato. In questo senso comprendiamo quindi ulteriormente quella che è l'importanza e il valore della formazione e della salute globale, soprattutto per noi giovani medici, in Italia come dall'altra parte del mondo. Oltre che appunto questi punti in comune, come mi anticipava lui, il fatto che il territorio nella gestione di un'emergenza di questa portata sia una chiave di svolta fondamentale come io stessa ho avuto modo di constatare e di evidenziare sul campo nel mio piccolo, dal mio punto di vista diretto di medico di medicina generale in quest'altra parte del mondo, appunto in Italia. Quindi non rubo altro tempo e passo la parola agli altri interventi e a Mattia. Prego Federica. Buonasera a tutti. Io sono Federica Viola, sono vicepresidente vicario di Fede Specializzandi e quindi qua rappresento insomma questa associazione di specializzandi e sono anche un medico in formazione specialistica in particolar modo in geriatria. Ringrazio Chiara, ringrazio il CUAM per averci sostanzialmente invitato a questo evento, chiamiamolo così anche se non è di presenza, ma è pur sempre un evento a cui noi, che parla di un progetto a cui noi siamo molto affezionati e che seguiamo comunque da anni e ogni anno comunque appunto ne parliamo anche ai precedenti annual meeting del CUAM, ci sono state delle riflessioni in merito. Crediamo nel progetto e in particolar modo quest'anno crediamo, poi credo personalmente insomma che sia fondamentale parlarne un po' per quello che ha detto anche Annalisa, adesso sostanzialmente non andrò a ripetermi, però sarà credo molto interessante capire come è stata affrontata la pandemia, come Mattia stesso l'ha vissuta dall'altra parte del mondo, i punti di contatto che ha trovato, le differenze che ha trovato e sostanzialmente quindi le analogie che possono esserci, le differenze e le ricchezze che in più probabilmente ha acquisito durante questa sua esperienza. Quindi niente, passo la parola a Mattia che sicuramente ha molto più da dire e vi ringrazio molto. Bene, grazie Annalisa, grazie Federica. E dico solo un'ultima cosa, giusto perché i partecipanti di questa sera sono sia studenti del SISM sia specializzanti, abbiamo detto ci abbiamo allargato un po' il pubblico e due sono i progetti, brevissimamente, che permettono ai giovani di fare un'esperienza in Africa per gli studenti o neolaureati il Wolisso Project, per cui il riferimento è il SISM e trovate anche il sito Wolisso Project, è un'esperienza di un mese, quindi molto più limitata ovviamente perché ancora non si è medici esperti in una particolare disciplina. Mentre quello di cui ci racconterà Mattia stasera, che noi chiamiamo in gergo il JPO, è il Junior Project Officer, che invece è un periodo di sei mesi dove si svolge il proprio periodo di specializzazione all'estero, ovviamente con un tutor seguiti, quindi tutte le pratiche prima da fare presso la propria scuola di specializzazione per poter partire, e poi questi sono effettivamente sei mesi della specialità fatti in Africa. Poi appunto Mattia ha avuto quest'ulteriore complicazione che ci racconterà e quindi il suo JPO è stato un JPO un po' particolare. Adesso chiudo il microfono e passo a Mattia. Ciao a tutti, buonasera, spero mi si senta. Ora provo a condividere le slide. Non vi spaventate, ho fatto giusto poche slide, ma l'ho impostata più come una chiacchierata, insomma non voglio fare il solito pippone da igienista, anche perché sono alle sei di sera per tutti, quindi per semmai innescare qualche curiosità e farvi venire qualche domanda e così poi verso la fine possiamo anche discutere, o anche durante, se vi vengono dei dubbi, delle curiosità, sentitevi liberissimi di interrompere. Mi diceva che magari si scrive asterisco nella chat come alzare la mano e quindi poi potete fare la domanda. Allora, intanto partirei, se riesco, ecco, vabbè, col QOM, che immagino tutti sappiano più o meno a grandi linee di che cosa si tratta, però magari c'è qualcuno che ancora non è entrato troppo in contatto. Allora, il QOM è un'associazione con sede centrale a Padova che ha portato più di 2.000 operatori in Africa, dato che mi ha sempre molto colpito è che la media di permanenza è di tre anni, quindi immaginate alcune persone quanto hanno dedicato a questa esperienza. È la più grande organizzazione italiana di promozione e tutela della salute delle popolazioni africane ed è attiva nei paesi che vedete nella mappa, quelli in rosso, vedete, c'è una prevalenza maggiore sull'Africa orientale e questo, insomma, molto in generale a grandi linee del progetto JPO, vi ho già parlato Chiara, quindi la possibilità dopo un corso o pre-partenza composto da vari moduli a seconda della specialità di partire e di fare sei mesi all'interno di un progetto giù in Africa. Allora, questo è il posto magnifico dove mi trovavo, Aver, in Uganda, e qualche elemento di contesto anche sull'Uganda. L'Uganda è appunto un paese dell'Africa centro-orientale, io mi trovavo nel nord dell'Uganda dove c'è quel pallino verde, quindi vicino a Gulu, che era il centro abitato più grande, in particolare nel villaggio di Aver. Aver è proprio un villaggetto molto piccolo in cui si trovava l'ospedale con cui il Cuon collabora da decenni e appunto il primo centro abitato realmente degno di questo nome appunto è Gulu, che distà più di un'ora di macchina, quindi immaginatevi un'area estremamente rurale. Già l'Uganda è uno dei paesi meno urbanizzati del mondo, siamo sul 15% della popolazione che vive nelle città, che sostanzialmente è una, cioè Campala, la capitale, che sta al sud. Tutto il resto, insomma, è un paesaggio molto poco densamente popolato. È un paese piccolo, però comunque 46 milioni di abitanti e ovviamente con una popolazione in crescita molto giovane, l'età mediana è 16 anni, come tutte le popolazioni, insomma, dell'Africa subsahariana. Il distretto in cui mi sono trovato a lavorare io è il distretto di Oiam, che conta circa quasi mezzo milione di persone, servito sostanzialmente da un solo ospedale, che è quello di Haber, per l'appunto, quindi immaginatevi già le proporzioni. Prima vi facevo vedere la mappa di tutti i paesi in cui il QAM lavora. Non sono paesi scelti a caso, chiaramente. Una delle prime cose che ho notato arrivando nel nord dell'Uganda è che si trattava di una zona con una storia anche solo del Novecento estremamente particolare e importante, densa. In Africa, sapete, nel Novecento si sono combattute moltissime guerre civili, dittature. Non so chi di voi ha visto anche solo il film sulla dittatura di Diamine, che è l'ultimo re di Scozia. E' un luogo che è stato molto, molto travagliato, poi tutta la storia di Joseph Coni, quindi i bambini rapiti, poi militarizzati, ed è una cosa che si percepisce da subito. E' una zona, appunto, che socialmente, economicamente è molto fragile, ma chiaramente il QAM lavora lì, soprattutto anche perché ha una situazione anche epidemiologica in particolare. Quindi è un carico di malattia importante e particolare. Ora ho buttato giù proprio due, tre cose che ovviamente non sono esaustive di tutto quello che è là, che è una situazione molto ricca e sfaccettata. Però quello in basso a destra, che vedete, sono le Marchinson Falls, molto vicine a dove stavo io, in un bellissimo parco naturale, e quello è il Nilo. Quindi nel nord dell'Uganda passa il Nilo, che poi va su Sud Sudan per poi finire in Egitto. Quindi immaginatevi, durante la stagione di pioggia, cosa possa essere il Nilo. Si trattava sostanzialmente di un territorio che in larga parte è paludoso. Quindi il territorio è estremamente paludoso, e lassù c'è il Plasmodium. Il distretto del Yam è una delle zone a più alta prevalenza malarica del mondo. Tra l'altro un Plasmodium spesso clorochino resistente, quindi è una situazione da quel punto di vista molto importante e pesante. L'altra cosa che ho scelto tra le tante è l'ebola, perché se ne parla molto poco, si parla sempre l'ebola, insomma è sorta alle cronache mondiali, nel 2015-2016 con l'epidemia in West Africa, ma in realtà i primi focolai, le prime piccole epidemie di ebola si hanno tra il Congo, il nord e l'Uganda, proprio vicino alla zona dove stavo io, già da decenni, e continuano a esserci, tra cui una molto importante nel 2000, proprio a Gulu, la città più vicina dove stavo io, ma anche un'altra nel 2007, nel 2012, insomma è un continuo. Ovviamente a livello di numeri è un carico di malattia diverso da quello che può avere per esempio la malaria, che uccide centinaia di migliaia di persone all'anno. Però capite bene il carico invece del sistema sanitario per prevenire che i numeri siano peggiori, e qui già iniziamo a ragionare anche un po' sul Covid, e soprattutto anche il carico simbolico che una malattia del genere può avere, sulla parte sociale, e le relazioni tra persone. Questa è una foto molto bella del Gulu, dove c'è appunto, nel 2000 sono riusciti a contenere l'epidemia in quella zona, in modo che non si propagasse. Però il QAM è soprattutto in quella zona con un progetto, che è un progetto molto grosso, che in realtà è trasversale a tutti i territori in cui il QAM opera, che è Prima le mamme e i bambini, immagino alcuni di voi l'hanno già sentito nominare. Ed è un programma che, come dice il nome, si va ad affrontare la salute materno-infantile, che è il programma, in teoria, con cui io ho iniziato la mia esperienza di JPO, che, insomma, da progetto avrei dovuto seguire. Perché Prima le mamme e i bambini? Non è uno slogan così, perché è carino dirlo. Il QAM, come non ha scelto casualmente delle priorità geografiche, e anche le priorità tematiche, sono basate su solidissimi temi, appunto, epidemiologici, di carico e di salute. In Africa subsahariana, soprattutto, si vive una situazione dal punto di vista materno-infantile, che per noi non è neanche allontanamente immaginabile. Stiamo parlando di più di un milione di bambini che muoiono nel primo mese di vita, 300.000 madri che muoiono di parto, situazioni di malnutrizione estesissima, che arrivano anche fino a un terzo della popolazione sotto i cinque anni, un terzo delle madri in gravidanza, con le conseguenze che potete immaginare sulla gravidanza e sui primi anni di vita. Erano negli obiettivi del millennio la riduzione della mortalità under five, della mortalità materna. C'è stata una riduzione piccola, molto più piccola rispetto alle attese, quindi evidentemente non si è affrontato abbastanza, non si è affrontato probabilmente dal punto di vista sistemico, ed è invece questo un approccio che il QAM ha iscritto nel DNA. Cioè il QAM lavora in Africa insieme alle popolazioni, insieme alle autorità locali e con un approccio di sistema, quindi di rafforzamento dei servizi a tutto tondo, perché non basta mandare giù il ginecologo bravo che risolve le complicazioni del parto. Ci sono tutte delle cose a valle e a monte che vanno approcciate appunto in modo sistemico. Qua ho messo qualche dato, giusto perché fanno impressione tutte le volte che li vedo. La mortalità under five in Uganda è 46 su mille nati vivi, cioè LBL, in Italia tre. La mortalità materna è 375 a 2, immaginate le proporzioni. Poi c'è tutto un problema di gravidanze non programmate, ammesso che ci mettiamo d'accordo su cosa vuol dire programmato, con un tasso di fertilità di sei bambini per ogni donna, un grosso problema di violenza di genere, soprattutto su genere femminile. E poi, no, qua vabbè, si metteva semplicemente quello di cui già parlavamo, cioè che gli indicatori sul materno infantile sono indicatori che sostanzialmente in Africa vengono utilizzati per andare a tastare la salute dell'intero sistema. Si è visto che l'accesso ai servizi materno infantili corrella moltissimo con le disuguaglianze socioeconomiche, sia all'interno della stessa nazione che tra nazioni. È un indicatore fortissimo. E ugualmente l'accesso al parto assistito e la qualità del parto assistito è utilizzato come proxy del funzionamento del sistema sanitario. Ma perché? E lo vediamo magari meglio dopo. Però perché per avere un parto assistito di qualità significa che hai operatori qualificati H24, che hai le medicine, che hai i dispositivi, che hai un sistema di comunicazioni che funziona e quindi sostanzialmente che hai un sistema che funziona in generale. Quindi questo era il mio progetto iniziale che era sostanzialmente incentrato sul concetto di qualità del sistema. Anche qui non inizierò con il pippone da igienista su tutte le dimensioni della qualità, l'efficacia, l'efficienza. e diciamo a livello pratico, o almeno come io ho interpretato il mio progetto, lavorare sulla qualità in quel contesto significava soprattutto lavorare sul personale. Voi dovete immaginarvi un sistema, molto in breve, esistono gli ospedali e poi gli health center 4, health center 3, 2 e 1. Gli ospedali sono, c'era uno nel distretto, era quello di Haber, sono una serie di caseggiati con dei servizi specialistici, circa 200 posti letto, immaginatevi una dimensione del genere. Gli health center 4 sono degli ospedali più piccoli che hanno meno servizi. Gli health center 3 sono sostanzialmente un insieme di 3-4 case in cui in una c'è l'ambulatorio in generale. In una ci sono due o tre letti di inpatient department, di ricovero. e in una ci sono i servizi materno-infantili sostanzialmente. E si distinguono un po' dagli health center 2 perché hanno l'accesso ad alcuni servizi materno-infantili più avanzati, diciamo. Gli health center 2 sono sostanzialmente delle, una singola abitazione, una singola, non proprio capanna, ma insomma una singola casa in cui c'è un operatore di solito massimo due che non sono medici chiaramente, non sono, immaginatevi il medico di base, non sono neanche aiuto-infermieri, spesso sono aiuto-infermieri, ostetriche, aiuto-ostetriche, che gestiscono tutta la parte ambulatoriale di un distretto, cioè di un territorio comunque di solito vasto. Health center 1 invece è costituito sostanzialmente da, sono i volontari di villaggio, non c'è nessuna struttura fisica, quindi ci sono due persone per ogni villaggio che volontariamente, quindi non pagate, fanno un po' da raccordo tra la comunità e gli health center superiori. Ora anche lì il villaggio, non immaginatevi, cioè io pensavo quando sono arrivato il villaggio, una serie di edifici circoscritti, vicini, riconoscibili, ecco no, il villaggio è costituito, solo chi abita nel villaggio sa dove inizia, dove finisce il villaggio, perché in realtà sono una serie di capanne raggruppate per famiglia, quindi ci sono tre, quattro capanne per ogni famiglia con uno spazio comune, però poi è il household, quindi appunto la famiglia. L'altra famiglia può distare anche chilometri e quindi è impossibile capire che cosa sia un villaggio venendo da fuori. Loro invece ce l'avevano ovviamente perfettamente presente. E quindi immaginatevi anche la gestione da parte dei volontari di villaggio, che sì, è un villaggio, ma questi si dovevano spostare per grandi distanze, anche spesso a piedi, oppure se andava bene in bicicletta. e queste sono le strade che vedete qua, quindi sì, anche avendo la macchina non sempre era, alcune strade non erano praticabili, la stagione delle piogge c'era da fare il guado, insomma, e questa era un po' la situazione. E questo era per dire, insomma, che lavorare sul personale significava lavorare su delle persone che spesso avevano un carico di lavoro estremamente alto e con una complessità che loro non erano stati formati a gestire. persone isolate in questi posti totalmente sperduti, spesso molto mal pagati e quindi immaginatevi tutto il carico di frustrazione, di demotivazione e quindi lavorare sulla qualità all'interno di quel progetto semplicemente significava lavorare su queste persone e lavorare sulla capacità soprattutto di metterle in rete. Abbiamo lavorato molto il primo mese quantomeno sulla capacità di interconnettere questi centri sia dal punto di vista dei trasporti, della rete di comunicazione, sia dal punto di vista della comunicazione proprio tramite telefono che anche lì non è banale tra non basta dare un telefono a tutti perché poi non c'è campo, non c'è la possibilità di ricaricarlo problemi che insomma potete anche immaginare. Io ho messo poi la foto della non so se si legge ambulanza che è una moto la prima volta sono entrato a fare la prima supervisione ho visto la moto ambulanza ho detto wow ci sono anche le ambulanze in realtà la maggior parte di queste erano ferme perché non c'è la benzina che è una delle cose a cui magari uno non pensa ci sono delle degli elementi inaspettati che sono molto limitanti la benzina lì è molto costosa rispetto al costo della vita di là ed è spesso una delle voci principali di tutti i progetti in termini di spesa e non è facilmente trasportabile reperibile quindi a volte anche uno dei sistemi pensati nel migliore dei modi poi si scontra contro dei colli di bottiglia anche banali volendo che però sono fondamentali quindi diciamo che da subito andando giù iniziando a ragionare su questi temi ti scontri con queste difficoltà le buche nella strada la benzina a cui magari non noi diamo assolutamente per scontate e quindi vabbè insomma per chiudere la parte di questo del progetto abbiamo lavorato su questi temi sulla qualità tramite uno strumento che principalmente erano le supervisioni le supportive supervision quindi visitavamo tutti i centri ogni trimestre e tramite una checklist del ministero ma non solo andavamo a analizzare sia gli elementi strutturali che mancavano che erano carenti i gap principali ma insieme a loro insieme al personale locale insieme al personale del distretto quindi dell'asle locale praticamente ragionavamo su quelli che erano le necessità più importanti e uscivamo sempre con un action plan di azioni che potevano essere intraprese o da noi o da loro per andare a migliorare queste aree quindi questo era un po' il progetto con un focus sul servizio materno infantile e poi niente dopo tre settimane un mese che ero lì qua forse non si vede benissimo da questa foto però generalmente le persone fuori dai centri di salute stavano all'ombra sotto gli alberi questa penso fosse anche una vaccinazione dei bambini così raggruppati dopo è vero c'è più ombra quell'albero più grande però si vede un netto sparpagliamento che non era casuale insomma è arrivato il covid ed è stato allora intanto per dare un po' una timeline a fine febbraio inizio marzo sappiamo tutti il covid in Europa noi inizialmente stavamo solo come osservatori e preoccupati chiaramente potete tralascio tutta la parte di i dubbi sul tornare non tornare il terreno che manca da sotto i piedi però dal punto di vista della situazione in Uganda iniziavamo a chiederci cosa fare e devo dire che quelle settimane sono state molto importanti perché mentre come si è visto quando l'epidemia era in Cina tutti dicevano è solo in Cina quando era in Italia tanto in Italia da noi non arriva ecco sulla scia di questo noi avendola vissuta quasi in prima persona la situazione italiana abbiamo avuto anche quella spinta e quell'urgenza che ha fatto sì che abbiamo portato avanti delle questioni in modo molto più rapido e deciso con con le autorità locali che ci appunto portando poi queste esperienze molto dirette ci hanno creduto eravamo più credibili e più insomma e più persuasivi e quindi siamo riusciti ad agire anche molto in fretta infatti comunque l'Uganda da subito ha attuato un durissimo lockdown dal 18 marzo quando ancora non c'era nessun caso positivo nel paese il primo c'è stato pochi giorni dopo e un lockdown importante cioè chiusura di tutte le attività commerciali tutti gli spostamenti coprifuoco dopo le sette tutti gli spostamenti chiaramente motorizzati che però per le lunghe distanze sono inevitabili soprattutto i boda boda cioè le mototaxi con cui si spostano per le lunghe distanze non potevano girare e chiusura dei luoghi di aggregazione che lì la chiusura delle messe significa i leader religiosi sono sono leader della comunità al pari dei dei direttori del distretto sono delle persone molto influenti la messa è un momento molto importante a cui partecipa quasi tutta la comunità ovviamente occasioni molto affollate immaginatevi cosa vuol dire la chiusura di queste situazioni e poi appunto i primi casi sono arrivati intorno alla fine di marzo turisti ubeandesi in realtà tornati da Dubai e a quel punto si è chiuso anche l'aeroporto che peraltro è rimasto chiuso almeno fino a quando io sono andato via ma penso che ancora lo sia perché poi hanno avuto dei problemi economici essendo stati chiusi molti mesi e questo approccio molto aggressivo ha avuto sicuramente un effetto sicuramente insomma pare abbia avuto un effetto sul limitare la diffusione iniziale del covid e spoiler nel senso tuttora l'epidemia è abbastanza sotto controllo in Uganda parliamo di qualche migliaio di casi confermati e neanche un centinaio di morti ad oggi quindi è stata al netto della sottodiagnosi chiaramente è stata un'epidemia tutto sommato sotto controllo sicuramente dovuta anche a questo approccio molto aggressivo che ha tenuto subito il governo però questo lockdown ha avuto e ha un significato molto diverso da quello che ha avuto per esempio in Europa per quanto anche in Europa abbia delle conseguenze disastrose in Uganda potete immaginare non esiste un sistema di welfare non esiste l'IMSS in Uganda dire chiudo i negozi chiudo i trasporti vuol dire per i gestori dei negozi per i guidatori della moto e per chi ha bisogno di spostarsi che il giorno dopo non hai il cibo da mangiare perché è un'economia sostanzialmente che di sussistenza si regge in questo modo alla giornata praticamente quindi ha avuto degli effetti sicuramente importantissimi ancora tutti da studiare da calcolare e si sono viste delle tensioni anche sociali chiaramente quindi rivolte proteste sono state uccise dalle persone dalla polizia per aver protestato e quindi insomma questo è un po' il contesto che si è venuto a creare in modo abbastanza improvviso quali sono state un po' le sfide che ci siamo trovati di fronte innanzitutto come prima cosa come vi dicevo portare la voce della situazione italiana è stato utile a livello comunicativo però è rimasta comunque una sfida soprattutto con la comunità far passare il messaggio giusto perché la tendenza è stata un po' quella di copia e incollare i messaggi occidentali sia da parte nostra devo dire che quantomeno inizialmente sia da parte del ministero delle autorità locali il messaggio era state a casa qualsiasi cosa succeda è importante state a casa tutti a casa tutti fermi che aveva il suo senso in una situazione di epidemia avanzata in cui appunto esiste un welfare state in una situazione come l'Uganda che appunto si trova con villaggi a distanza di chilometri comunque spazi all'aperto perché nessuno praticamente stava mai al chiuso in una situazione con zero casi presenti nel territorio sono state distrutte delle intere economie col senno di poi ci sono stati dei dubbi su questo su questo approccio e quindi l'approccio iniziale è stato quello a livello comunicativo di anche spaventare molto la comunità purtroppo e la comunità ovviamente era già spaventata di per sé perché le notizie di un mondo occidentale ritenuto comunque generalmente più solido che si andava praticamente sgretolando sotto i colpi di questo virus già anche solo come impatto simbolico dava l'impressione di una cosa grave in più nel nostro territorio come vi dicevo c'è stata c'era ancora l'immagine fresca di ebola e quindi comunque l'idea di una malattia che se ti toccava ti condannava a morte anche lì la difficoltà estrema di comunicare che sì è importante mantenere distanze lavarsi le mani però non diciamo che la maggior parte della popolazione non era ad alto rischio di avere serie conseguenze del virus abbiamo visto l'età mediana 16 anni c'era però la grossa necessità di proteggere alcune fasce della popolazione perché come dicevamo prima tutti i malnutriti immaginatevi i tubercolotici gli HIV non in terapia tutte cose che al tempo erano ancora del tutto da studiare e tuttora ma era ipotizzabile che queste persone potessero avere un impatto importante da questa patologia però invece purtroppo il messaggio che passava era quello di grande paura di grande l'untore anche lì e quindi poi stigma abbiamo avuto dei casi di sospetti covid ma sospetti anche sul niente cioè una persona che era tornata dal Kenya allontanata dal villaggio con la minaccia di morte abbiamo dovuto ricoverare semplicemente perché non poteva stare nel suo villaggio numerose situazioni di questo tipo era partita la caccia allo straniero perché a un certo punto l'Uganda non aveva casi di comunità per molti mesi non li ha avuti ha avuto dei casi di importazione soprattutto da Kenya e Tanzania perché ovviamente comunque le merci continuavano a spostarsi le merci sono trasportate da camionisti sostanzialmente e nei paesi di Tanzania e Kenya c'è stata sostanzialmente le epidemia importanti e portavano dei casi all'interno finché poi hanno costruito dei laboratori sul confine testavano tutti i camionisti prima di entrare li facevano aspettare tre giorni sul confine e poi se positivi li rimandavano indietro comunque fino a quella situazione lì c'erano questi casi di importazione diciamo quindi anche a livello comunitario ogni volta che c'era qualcuno che veniva all'inizio a marzo c'era un nucleo che veniva dall'India che al tempo non aveva non aveva casi confermati e anche loro si sono dovuti allontanare perché non erano accettati dalla comunità e su questo tra l'altro mi ha fatto molto impressione un episodio che racconto che stavo camminando una sera sfidando anche il coprifuoco era le sette e mezzo per il villaggio e ho sentito il rumore di due ragazzini che guardavano un video su YouTube perché anche lì ci sono ovviamente gli smartphone e YouTube e guardavano un video sulle teorie del complotto sulla creazione del virus in laboratorio in Cina quindi mi ha dato proprio la dimensione globale anche di questo tipo di fenomeno che è veramente capillare cioè in mezzo al niente sentire queste 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 voci è stato è stato impressionante allora noi come arriva il Covid cosa facciamo appunto a parte il discorso della comunicazione il nostro ruolo è stato soprattutto quello di supportare il distretto nelle decisioni strategiche le decisioni strategiche sono state soprattutto nel senso di un decentramento delle azioni quindi abbiamo creato una task force a livello distrettuale e poi nei vari territori fino a arrivare ogni singolo villaggio con un sistema di sorveglianza invece che faceva il percorso inverso quindi ogni volta che c'era una persona sintomatica veniva riportata da volontari di villaggio e riportata da task force centrale sistema che peraltro era già piuttosto oliato rispetto ad altri perché appunto proprio in Africa la questione delle malattie infettive non è affatto secondaria e Ebola aveva aiutato ulteriormente in questo senso e poi abbiamo lavorato moltissimo sulla formazione abbiamo fatto una formazione molto intensa a cascata sempre sui livelli inferiori abbiamo creato un kit formativo che poi abbiamo ovviamente di concerto con le autorità locali che poi abbiamo diffuso abbiamo lavorato moltissimo con la comunità con un approccio comunitario mi è capitato anche a me di fare molti incontri in radio abbiamo siamo andati nei luoghi di aggregazione che lì erano soprattutto mercati e i pozzi dove raccoglievano l'acqua perché sì poi lockdown però i bambini non andavano a scuola e si trovavano al pozzo a raccogliere l'acqua e giocavano tutti insieme quindi le stesse situazioni che si trovano un po' anche qua e quindi abbiamo cercato di fare sensibilizzazione con i leader locali con le scuole con gli insegnanti che anche se non funzionavano comunque avevano sempre un ruolo di diciamo di da leader nella comunità e poi c'è stata tutta la parte legata qua magari vi faccio vedere un po' di foto alla gestione proprio dei dei centri di salute e allora quello che vedete in alto a destra è Giovanni era il mio tutor è un personaggio abbastanza storico del QOM forse alcuni di voi lo conoscono è stato tantissimi anni giù e all'inizio non c'era niente non a livello di dispositivi di protezione assolutamente niente non si sapeva quando sarebbero arrivati il QOM li voleva mandare dalla sede centrale ma gli aerei erano bloccati e non non si sapeva niente in pratica figuratevi non si riusciva in Italia quindi immaginatevi là e allora siamo andati in giro un po' per per negozi per cercare qualcosa e abbiamo trovato degli assorbenti e abbiamo creato una mini catena di produzione pulita con assorbenti ed elastici abbiamo creato queste queste sorti di mascherine che ovviamente non so con nessuna certificazione sul fatto che proteggessero meno ma sicuramente erano meglio di niente ancora in un periodo tra l'altro in cui le mascherine non erano così ben viste in modo assoluto anzi si parlava del meglio usarla meglio che usarla male meglio non usarla invece insomma l'intuizione anche e soprattutto di Giovanni è stata no comunque è meglio avere qualcosa che niente che effettivamente è un discorso di buon senso ma che al tempo non era non era comunque così diffuso e quindi siamo riusciti a distribuire queste 10.000 mascherine con le reticenze iniziali che potete immaginarvi sia tra uomini che tra donne le donne poi spesso non erano molto convinte quindi li usavano come assorbenti anche perché avevano un costo piuttosto alto e quindi niente poi non li avevano per l'assistenza ma quelle sono sono intoppi del tutto prevedibili e poi a livello dei centri di salute abbiamo cercato di implementare un po' di distanziamento fisico il problema qual è? questi centri di salute sono posti completamente all'aperto cioè le persone arrivano da tutti i lati quindi anche solo mettere un punto per lavarsi le mani era difficilissimo quindi ci siamo ingegnati con del nastro quello che vedete era rosso e bianco abbiamo circondato interi spazi giganteschi dei centri di salute con un'efficacia dubbia dal punto di vista del contenimento del fatto che le persone potessero entrare o meno da passando sotto ma comunque un pochino ha funzionato perché abbiamo creato dei punti di ingresso in cui facevamo una sorta di triaggio intanto tutti si lavavano le mani e e poi veniva misurata la temperatura come vedete lì nella foto abbiamo addestrato delle persone abbiamo reperito questi termometri infrarossi e quindi poi in tutti i centri di salute veniva misurata temperatura e almeno c'era il lavaggio delle mani in alcuni in quelli più grandi abbiamo provato anche a implementare il fatto di dei numerini per la prenotazione della visita nel senso che come funziona c'è l'ambulatorio ci sono le persone che si accalcano fuori in massa non ci sono molti posti per sedersi quindi stanno tutti vicini perché hanno paura di perdere il posto perché se si allontani nessuno sa più che è il tuo turno quindi per evitare questo all'ingresso abbiamo dato dei numerini riutilizzabili alcuni lavabili altri da usa e getta purtroppo di carta in cui abbiamo provato a sensibilizzare un po' sull'idea appunto di avere un ordine numerico che devo dire in qualche caso ha funzionato non sempre non è stato molto semplice poi abbiamo provato distanziare ovviamente le sedute e questo centrale è una foto di un po' di carpenteria che ci siamo messi a fare durante il weekend perché mancava un'ambulanza che trasportasse casi covid tutti si rifiutavano quindi abbiamo adattato una jeep abbiamo sigillato questo pannello tra i posti davanti e i posti dietro e abbiamo creato così un'ambulanza tutto molto autoprodotto però cosa è successo che come è successo anche da altre parti ci siamo concentrati moltissimo sulla risposta al covid e però ci siamo completamente dimenticati o almeno all'inizio perché eravamo veramente molto presi dalla paura di questa malattia e dal prevenirne gli effetti perché il fatto di gestire il covid non era neanche nei radar chiaramente c'era la battuta giù che c'erano più ministri che posti in terapia intensiva che però non era una battuta cioè era vero ci sono 50 ministri e 45 posti di terapia intensiva su 45 milioni di persone è come dire non esistono peraltro non basta avere i posti in terapia intensiva bisogna avere gli equipaggiamenti gli anestesisti qualificati eccetera quindi di fatto la gestione della patologia non era pensabile era tutto sulla prevenzione concentrandosi su questo però si è persa un po' di vista a tutti i livelli la continuità dei servizi essenziali dei servizi normali che erano in essere e dopo un primo periodo appunto di grande paura e concentrazione sul covid invece siamo ritornati con sia col progetto che proprio anche con le attenzioni su invece appunto la riorganizzazione di questi servizi immaginatevi l'impatto che ha avuto in Italia il fatto di chiudere per due tre mesi gli ambulatori specialistici ha avuto degli impatti di salute sicuramente importantissimi che ancora sono anche questi da vedere da calcolare immaginatevi lì che cosa può voler dire quindi l'antenata al care quindi tutti i servizi pre parto i servizi materno infantili lo stesso parto sono stati totalmente sconvolti le persone ovviamente vedevano i punti i centri di salute come un punto sporco cioè come un punto dove era possibile prendere il virus e quindi non venivano non venivano più a farsi visitare non venivano più neanche per l'emergenza anche sulla scia di Ebola sapete come quasi tutte le malattie infettive ma Ebola in particolare i centri di salute erano erano il centro dell'epidemia lo sappiamo bene anche noi e quindi la difficoltà di comunicare anche il fatto che potessero venire in sicurezza e che dovessero venire per farsi visitare la visita domiciliare non è pensabile chiaramente quindi c'è stata tutta un'opera di grosso sforzo di comunicazione da questo punto di vista però cosa succedeva gli dici vieni a farti la visita pre natale come vengo se sto a 20 chilometri perché i boda erano fermi quindi anche lì lo sforzo con le autorità locali con la polizia locale di autorizzare in via eccezionale i trasporti per i malati però c'era poi ovviamente la paura di che qualcuno facesse il furbo e non fosse veramente malato e che non si stessero in ospedale come si certifica questa cosa c'è stato tutto un tema molto complesso e perlomeno sulle donne incinte siamo riusciti a strappare un senso è una condizione abbastanza dimostrabile per cui su quelle cose su quella su quella condizione siamo riusciti a far venire molte donne anche a partorire in ospedale a farsi le visite quindi da quel lato più o meno sistema retto sul resto meno ancora lì da valutare bene nell'impatto che ha avuto però i primi dati fanno pensare insomma a un impatto abbastanza importante ugualmente le vaccinazioni pediatriche come da noi si sono interrotte ugualmente lì però con un carico di malattia completamente diverso è stato e forse sarà un potenziale disastro che probabilmente farà molti più morti del covid stesso però è una cosa su cui ci si è interrogati abbastanza poco sia il copio incollato appunto anche lì la soluzione occidentale in questo caso e non si è valutato fino in fondo l'impatto che questa cosa avrebbe potuto avere e poi tutto il discorso delle patologie croniche che uno pensa che in Africa non esistono invece esistono e come sono in forte aumento sapete per le patologie ad esempio che richiedono dei farmaci tutti i giorni la tubercolosi l'HIV vengono dati direttamente dall'operatore nel centro perché si è visto che è una maniera più efficace di avere un'aderenza alla terapia solo che fare questi spostamenti tutti i giorni il rischio di avere più incontri le sale d'attesa piene ha portato anche lì a una riorganizzazione quindi abbiamo ragionato su altri modelli e abbiamo sostanzialmente gli davamo la terapia per più tempo e abbiamo organizzato una sorta di servizio anche domiciliare di consegne e vabbè non la faccio troppo lunga qui comunque diciamo che poi tutta la seconda parte del mio del mio JPO si è concentrata su appunto su come ritornare un po' alla normalità in una normalità che era diversa e devo dire che è stata forse la parte anche più più formativa perché sicuramente il discorso di affrontare il covid era chiedeva una grossa dose di creatività e di ingegno ed è stato dal punto di vista professionale formativo sicuramente però anche ragionare su servizi che già sono in essere e la loro ristrutturazione è stato veramente importante per me ma infatti sì la chiuderei con delle conclusioni che però hanno il punto di domanda perché non ci sono conclusioni è ancora tutto in corso sia per me che per la situazione giù sì vabbè gli effetti sociali e sanitari ne abbiamo già parlato quindi io mi chiedo spesso che cosa succederà adesso nella loro fase 2 fase 3 insomma dopo che dopo questo lockdown di 6 mesi quali saranno poi gli effetti profondi a livello sociale sanitario e dai primi dati e da quello che ci siamo immaginati che abbiamo visto giù saranno molto importanti poi un'altra domanda che mi faccio spesso da quando sono tornato è il discorso del di come superare questa cosa quindi della soluzione che in questo momento si chiama sostanzialmente vaccino e poi e poi insomma però la migliore speranza è quella l'accesso al vaccino sembra che per l'Africa sarà sostanzialmente precluso almeno in una fase iniziale o quantomeno le notizie non sono buone da quel punto di vista questa cosa mi ha colpito il fatto che loro la sapessero già da subito mentre c'era una fase di ottimismo in cui si diceva l'equità di accesso per tutti perché finché l'ultimo non è guarito non siamo nessuno al sicuro loro non ci hanno creduto neanche per un secondo già ad aprile nelle riunioni di task force sapevano perfettamente che sarebbero stati gli ultimi a ricevere il vaccino ora io spero che non sarà così però ripeto le notizie non sono incoraggianti e perché non perché fossero vittimisti ma semplicemente perché avevano subito sulla loro pelle decenni di di questo tipo di iniquità e quindi credo che è anche una cosa da portarsi a casa in questa situazione sia ragionare su su come si muovono anche a livello globale questi questi fenomeni e poi qual è il ruolo per un GPO vabbè anche di questo in realtà ne abbiamo ne abbiamo parlato mi piace pensare che la public health non è mai stata proprio la disciplina più considerata negli ultimi decenni all'interno della medicina degli sistemi sanitari è sempre stato un po' ah sì poi c'è quella cosa lì e col covid devo dire che ho visto che si è si è tornato a parlare di alcuni temi che sono molto cari alla public health a livello anche generalista quindi tutti ne parlavano tutti parlano adesso di di che cosa vuol dire pagare tramite le tasse un sistema universalistico avere un certo tipo di servizi avere un sistema che ha un certo tipo di risposta celere efficace e di dare meno cose per scontate e questa è una cosa che in Africa da subito già era una domanda che uno si poneva perché veniva subito messo di fronte a questo confronto molto molto marcato e quindi da subito ti chiedevi che cosa do per scontato e che cosa no e infatti la figura insomma del JPM in public health sono molto contento che il QAM la valuti molto e la ritenga importante perché effettivamente anche in quei contesti ha un peso importante è un'esperienza che assolutamente consiglio comunque per chiunque sia interessato a questo tipo di percorso io l'ho fatta anche forse un po' troppo lunga e vi avrò ucciso sicuramente però avrei concluso qui mi sarebbe tanto piacere se ci fossero delle domande delle curiosità una discussione anche insomma sono molto curioso di sentire se qualcuno ha qualcosa da dire grazie grazie Mattia adesso raccogliamo le domande potete appunto mettere un asterisco nella chat in modo che vi diamo la parola oppure se non avete possibilità di parlare o se non avete voglia di parlare scrivete direttamente la domanda in chat e la raccogliamo e la giriamo noi a Mattia inizio io con una domanda perché sono curiosa la cosa che mi è piaciuta di più del tuo racconto sono stati proprio questi dettagli con cui hai condito le informazioni perché effettivamente noi l'abbiamo vissuto da questa parte però viverla da là soprattutto sapendo che era già arrivata l'ondata quella forte di cui parlavano tutti i mass media qual è stato proprio l'impatto iniziale che hai avuto cioè quando hai avuto la notizia di questi casi che continuavano ad aumentare in Italia ma poi anche penso alle tante morti che ci sono state e come è arrivata la notizia lì in Africa qual è stata la reazione un po' tua e anche a me interessa sapere anche un po' cosa ti ha spinto a restare insomma qual è stato questo insomma immagino un po' dilemma che hai dovuto affrontare in breve tempo per prendere una decisione ma sì cioè il senso di spaesamento è stato subito molto forte perché per me poi è stato un cambio di prospettiva praticamente perché da che mi chiamavano preoccupati da casa dicendo no come va ho dovuto fare il contrario e devo dire cioè all'inizio chiaramente l'idea di che se succedeva qualcosa non sarei potuto tornare che anche solo di dare una mano come medico in Italia mi aveva persuaso e ho avuto questo pensiero per qualche settimana poi c'era talmente tanto da fare giù era talmente tanto sensato anche dare continuità a quel tipo di progetto e a quell'impegno che è stato poi in realtà quasi naturale rimanere lì mi ha aiutato molto anche il mio tutor che era molto sereno e molto a suo agio nelle situazioni di emergenza in Africa parlano di emergenza permanente una emergenza cronica che è vero ne hanno una dietro l'altra e quindi una persona come Giovanni abituata a quel tipo di situazioni all'inizio reputavo fosse un po' troppo tranquillo invece poi dopo effettivamente aveva contezza più di me di quello che era la situazione e questa è stata una scelta molto giusta una cosa mi ha colpito all'inizio che quando sono arrivato tutti si salutavano con dandosi l'avambraccio diciamo ma che modo strano di salutarsi che cosa è successo e dopo un po' scoperto che era Ebola che aveva portato quest'usanza che da molti non era mai stata abbandonata e ora fa riflettere pensare mi chiedo ogni tanto se torneremo mai a darci la mano se là per molti anni era rimasta questa cosa di non darsi più la mano per esempio interessante bene vediamo c'è una curiosità da Angela puoi raccontarci una giornata tipo chiaramente pre- e post-covid sono interessata proprio nella pratica a capire il tuo ruolo come specializzando di igiene in una realtà come quella allora pre-covid come dicevo abbiamo la giornata tipo è difficile perché lì sono giornate fatte di imprevisti sostanzialmente infatti insomma un requisito direi che è la vera flessibilità se no si fa un po' fatica io vivevo dentro l'ospedale quindi avevo la mia la mia casettina la mia stanza dentro di fianco all'ufficio quindi sostanzialmente mi alzavo andavo nella porta di fianco andavo all'ufficio in cui stavo quasi tutto il giorno e appunto a lavorare a quei progetti di cui vi ho parlato all'inizio abbiamo fatto anche molte uscite sul campo quindi tutte le supervisioni che vi dicevo si usciva con la gip e si andava a supervisionare questi centri duravano di solito tutta la giornata queste supervisioni molto molto toste e quindi insomma alcuni giorni in ufficio alcuni giorni a fare le uscite sul campo anche per altri tipi di attività c'era tutto un filone di lavoro con i social worker con la comunità c'era un'organizzazione di alcuni punti degli youth corner quindi punti per la gioventù in cui fare sensibilizzazione sui temi della violenza e delle gravidanze precoci una serie enorme di attività che purtroppo non sono neanche riuscito a iniziare a capire che poi è appunto arrivato il covid a quel punto la giornata tipo non è mai esistita non cioè ogni giorno ci inventavamo una cosa nuova e cercavamo di strutturarla quindi in quel momento è stato abbastanza cioè non ti saprei dire una giornata tipo comunque sostanzialmente era tutto il giorno al lavoro poi alle 7 c'era coprifuoco quindi tornavo dentro casa da solo con poco internet anche quindi abbastanza ho fatto un lockdown di sei mesi quando poi l'hanno fatto tutti un po' mi sentivo un pochino più più in compagnia non lo so e no comunque è un'esperienza che da covid a parte insomma comunque da specializzando in igiene è molto importante perché ti mette appunto a confronto con situazioni cioè fai proprio il paragone tra quello che succede lì e quello che succede in Italia e vengono fuori degli spunti molto interessanti almeno tutte le persone con cui mi sono confrontato e e poi c'è questa possibilità molto bella di avere un tutoraggio uno a uno che è una cosa che penso che nel percorso universitario non succeda praticamente mai e invece ci sono tutor che a quanto sento sono tutti hanno tutte esperienze positive e il fatto di essere uno a uno ti dà una questa possibilità anche di lavorare proprio alla pari quindi è molto responsabilizzante Grazie Veronica chiede cosa ti ha portato a decidere di partire per l'Africa e anche se l'università ha accettato facilmente questa tua richiesta Ma sì la io forse non l'ho neanche detto sono specializzando di igiene a Bologna al terzo anno e sì la scuola mia di Bologna è molto propensa a far andare a fare queste esperienze agli specializzanti perché appunto la ritiene come è una una grossa ricchezza sia per la scuola che per la persona e ma io sono deciso ce l'avevo un po' in mente avevo già avuto un po' di esperienze in Africa da studente e ho avuto dei colleghi che erano partiti mi incuriosiva da molto da tempo questo tipo di di percorso poi ho fatto il corso pensando anche che forse magari non sarei mai partito però il corso per partenza io lo consiglio anche senza la volontà di partire necessariamente perché è veramente ben fatto e tutti gli oratori sono molto competenti quindi ti dà proprio l'idea di come è il QAM di come lavora ma anche di che cosa vuol dire fare cooperazioni in Africa cosa vuol dire parlare di saluti in Africa e da lì insomma ovviamente uno poi capisce se può essere anche l'esperienza che fa per lui oppure no di solito sì quasi tutti quelli che fanno il corso patto quanto ho capito quindi non so se Marta vuoi leggere tu qualche altra qualche altro intervento posso leggere la successiva è un po' lunga vediamo ciao Mattia grazie mille per la presentazione che è stata davvero molto interessante dice Virginia l'attenzione alla formazione di mediatori nella popolazione come gli insegnanti o altre figure rilevanti nella comunità il lavoro in comunità anche per affrontare il covid rappresentano un approccio diverso rispetto a quello affrontato in Italia credi che sia un approccio trasferibile anche nel nostro contesto credi inoltre che come più volte ricordato la loro esperienza con Ebola abbia aiutato ad affrontare subito l'emergenza grazie ciao Virginia sì allora non so se è trasferibile sicuramente lo spero ed è una cosa che sto cercando di portare faticosamente ora dopo quando sono tornato sono stato subito assunto qua a Bologna nel dipartimento di sanità pubblica purtroppo mi occupo di nuovo di covid è un approccio che ovviamente è quasi assente soprattutto per questo tipo di patologia ma è invece un approccio di cui si vede moltissimo l'utilità perché quasi tutti i problemi derivano dal fatto che le soluzioni non sono concordate con chi poi le decisioni le subisce quindi con la comunità ma sono spesso prese dall'alto e a volte sono proprio non funzionano e questa è una cosa che purtroppo nel sistema anche molto complesso italiano molto irrigidito burocraticamente è un po' difficile da scardinare in Africa c'era più possibilità di anche sperimentare questo tipo di soluzioni c'era sicuramente una struttura un pochino più semplice più fluida e quindi si potevano concordare proprio con la comunità con i leader locali alcune soluzioni che in quanto concordate erano comunque accettate ben viste e c'era una insomma una un percorso che si faceva si eleva insieme e questo ha aiutato moltissimo sulla trasferibilità lo spero e basta non ho idea di quanto sia effettivamente fattibile sull'ebola sì sì ha aiutato tantissimo è stata una cosa riconosciuta da tutti perché intanto erano già in essere tutte le strutture di come dicevo prima di sorveglianza e le strutture di gestione delle epidemie e appunto poi c'è tutto il discorso di di avere già un vissuto a livello proprio simbolico di che cosa vuol dire anche del senso di comunità che si viene a creare in una situazione del genere molti dicevano ci siamo già passati anche questa volta l'affronteremo ce la faremo anche questa volta è stata ritirata fuori l'immagine di un medico praticamente mitico in quella zona che è il medico dell'ospedale di Gulu che aveva affrontato in prima persona l'ebola e poi c'era morto di ebola e veniva spesso tirato fuori come figura tutelare quasi come un nome tutelare però dal punto di vista psicologico questa cosa ha aiutato sicuramente perché ha ricreato un senso di comunità che già esisteva una cosa che forse noi in Italia invece abbiamo iniziato a sperimentare almeno per la mia breve vita per la prima volta in una situazione del genere e quindi quello si è aiutato grazie poi c'è Chiara che dice grazie mille per aver condiviso con noi la tua esperienza prima parlavi della sospensione di vari programmi di salute generale tra cui i vaccini in particolare nei bambini a causa della pandemia facendo riferimento alle conseguenze importanti che potrà avere in futuro qual è stata la reazione della popolazione del riguardo attualmente questi programmi sono ricominciati? Sono ricominciati sì pian pianino quando a luglio stavo tornando avevamo ricominciato a fare ovviamente con altre modalità di solito la vaccinazione funzionava che il volontario del villaggio andava con un operatore sanitario in un punto prescelto e lì si aggruppavano qualcosa come 300 persone 300 madri con i loro bambini e veniva fatta una vaccinazione sostanzialmente di massa chiaramente questo non era più ripetibile quindi si sono sperimentate situazioni di più vaccinazioni ripetute nel tempo con meno persone che però dal punto di vista di risorse non era facile gestire quindi sono ripartite tuttora sono in essere ma sono molto rallentate e sicuramente con una potenza cioè con insomma dei volumi molto inferiori rispetto a quelli che c'erano prima ed era cioè per l'Africa è uno degli interventi più importanti in termini di impatto di salute anche per l'Italia però qua l'idea sono quasi per scontate lì sono comunque ancora complicate è difficile raggiungere tutta la popolazione popolazione non saprei dire come ha reagito perché su questo diciamo non è non è stata percepita da subito come una priorità era percepita come una priorità più dagli operatori di sanità pubblica che dalla popolazione in un primo momento come dicevo all'inizio c'è stata molta distrazione sul tema del covid e quindi quella sembrava essere la priorità assoluta immagino poi che col tempo sia capito anche a livello di popolazione che era giusto ricominciare con quegli interventi bene al momento non ci sono altre domande non so se riusciamo a stimolare ancora qualche curiosità abbiamo ancora un po' di tempo chiedo io una cosa se vi ho dato il tempo agli altri per formulare altre domande potete anche intervenire appunto parlando attivando le telecamere se volete volevo chiedere ho seguito un po' di conferenze del Cuomo stesso e di altri professionisti sanitari che sono stati appunto in Africa durante la pandemia e si parlava anche di quelli che saranno gli effetti a lungo termine e quindi le conseguenze proprio che hanno toccato la cooperazione sanitaria internazionale in generale quindi questo strascio un po' negativo che ci porteremo avanti come la difficoltà di riportare le madri a partorire in ospedale oppure il fatto che appunto ne parlavi comunque anche tu pazienti che devono seguire dei trattamenti tipo ad esempio per l'AIDS eccetera quindi una certa cronicità già prima con difficoltà con ritrosia si approcciavano a queste che sono le cliniche se hai meglio di me sono gli ospedali questi punti di cura come si potrà fare secondo te a riottenere in qualche modo la loro fiducia la loro convincerli che arrivare in questi posti appunto che spesso il QAM gestisce con il personale locale non sono punti di malattia ma sono punti di cura grazie una bella domanda è quella su cui ci siamo interrogati per gran parte del tempo chiaramente in tempo di epidemia forte era molto difficile perché è una cosa che non ti togli dalla testa cioè se pensi che a livello simbolico quella appunto sia un punto di morte non ci vieni a partorire quando devo dire che si è capito che la situazione era più sotto controllo del previsto gli accessi ospedalieri sono riaumentati abbiamo appunto fatto delle campagne con la comunità in questo senso e secondo me uno dei driver principali che può portare a un ritorno alla normalità da questo punto di vista è proprio il far vedere che c'è attenzione sulla prevenzione cioè il fatto già di aver messo negli centri saluti il punto di triage con il lavaggio delle mani il termometro per quanto devo dire la verità questi termometri ogni tanto segnavano 31 ogni tanto 41 non lo so quanto fossero efficaci dal punto di vista reale della misurazione della temperatura tra l'altro in un ambiente comunque molto caldo fuori c'erano delle complicazioni da questo punto di vista però il fatto di avere attenzione su quello specifico aspetto visto che creava una sorta di fiducia nella popolazione perché comunque in alcuni contesti sono anche abituati a essere lasciati un po' un po' se stessi invece un'attenzione forte una presenza forte delle autorità locali delle sanitarie faceva aumentare il livello di fiducia quindi spero che questo possa essere un modo per riportare le persone appunto ai servizi però è un lavoro lungo cioè ha creato una ferita che andava immaginata piano piano grazie e diamo la parola a Lorenzo che si è prenotato in chat buonasera a tutti grazie Mattia della Contivisione io faccio una domanda un po' specifica sono specializzato di chirurgia generale mi piacerebbe fare un'esperienza così dal punto di vista chirurgico ad esempio io in Italia non ho completamente sospeso l'intervento in elezione ma l'urgenza non è scemata molto non so nemmeno se esista l'elezione ad Haber o così sai dirmi se è cambiato qualcosa o in che maniera potrebbe variare la mia esperienza se decidessi di partire come chirurgo allora ad Haber l'attività chirurgica più o meno è rimasta devo dire invariata nel senso almeno di disponibilità poi come si diceva appunto meno persone andavano accedevano al servizio però si sono creati dei percorsi sporco pulito diciamo più o meno non quelli che ci immaginiamo noi però sì e quindi sostanzialmente l'attività chirurgica è continuata esiste anche dell'elezione poca soprattutto legata ai parti oppure quando alcune equip del CUOM che arrivano con i chirurghi e lì si accumulano delle liste di interventi che fanno in elezione però l'attività è continuata sostanzialmente poi chiaramente l'attività principale lì è legata al cesareo e per cui se non vanno a partire in ospedale quella è diminuita sicuramente però non ci sono stati grossi grossi problemi dal lato ospedale da quel punto di vista quindi secondo me può essere una bella esperienza una mia collega chirurga appunto che era sempre nel nord dell'Uganda ma in un altro ospedale a Matani ha continuato tranquillamente a operare e ha fatto tutta l'esperienza del caso anche tutte le urgenze continuavano ad andare comunque grazie mille niente bene lasciamo ancora un attimo per capire se c'è ancora qualche curiosità qualche domanda che magari avete in mente e non avete ancora scritto e dopodiché insomma se siete stati abbastanza soddisfatti direi che è stato abbastanza esauriente Mattia nel raccontare questa esperienza infatti ti ringrazio io per prima perché insomma ho letto anche io ho letto anche l'intervista che avevi rilasciato che citava prima Anna Lisa ho letto altre cose però insomma sentire di persona il racconto di quei mesi è stato molto interessante penso che insomma sia un'esperienza che poi ti porti un bagaglio che ti porti dietro per sempre insomma sotto tutti i punti di vista no vi ringrazio io comunque per l'opportunità e la fiducia che riponete e anche l'opportunità di mettere in fila un po' queste queste esperienze perché in realtà non avevo avuto mai tempo di farlo anche qui era stato tutt'uno quindi grazie davvero ascolta abbiamo un'ultima domanda che ti leggo appunto dice Pietro che buona parte la risposta è già uscita ma chiede se oltre all'interazione con la popolazione come è stato effettivamente il rapporto con le autorità locali sanitarie e non ci si è trovati a dover agire con un approccio più top down di quanto si sarebbe voluto cioè l'emergenza ha cambiato qualcosa nel modo di porsi oppure la situazione è comunque sempre almeno un po' emergenziale eh sì c'è stato il solito meccanismo che c'è durante le emergenze cioè si centralizzano le decisioni e si riduce la comunicazione che è esattamente il contrario penso di quello che va fatto cioè decentrare le decisioni e aumentare la comunicazione è stato è successo sì è successo chiaramente è successo a tutti i livelli è successo all'interno del nostro team è successo tra noi e il distretto all'interno del distretto al ministero dappertutto lo sforzo però c'è stato teorico e poi anche pratico di invece invertire un po' questa tendenza che è una tendenza penso naturale e il rapporto è stato buono perché vabbè comunque il QAM compie quest'anno 70 anni penso che sia da 50 anni ad avere qualcosa del genere quindi comunque ha un rapporto strutturatissimo con tutte le autorità ospedaliere del distretto quindi c'è stato un rapporto di ottima collaborazione insomma forse la cosa più difficile è stata con le autorità non sanitarie cioè la polizia che ovviamente avevano delle priorità differenti che venivano dal ministero degli interni dal presidente che gli diceva non fate girare nessuno che nessuno si muova arrestate tutti togliete le moto chi si muove in moto e noi che cercavamo di mediare dicendo ma magari se uno ha bisogno di una moto per venire in ospedale quindi lì ci sono state un po' di tensioni anche a volte hanno alimentato alcune alcuni sospetti su alcune persone che poi hanno arrestato ingiustamente ci sono stati un po' di episodi così ma ci stanno il rapporto invece mi è venuto in mente anche con le altre ONG è stato un po' complesso perché ovviamente non tutti hanno la flessibilità che ha il QAM anche nella gestione dei fondi il QAM da subito quando è arrivato il Covid è riuscita a concordare con i donatori una diversione di alcuni fondi dal progetto per l'emergenza Covid è stato molto rapido e questo è stato utilissimo per tante cose la stessa non sono riusciti a fare magari altre ONG che avevano politiche anche diverse sulla gestione del personale un po' più non lo so non prudenti più attendiste se vogliamo e quindi anche lì ci sono stati un po' di attriti perché non c'erano la stessa idea su come agire sul territorio quindi vabbè quello è un problema comunque cronico della cooperazione che tra varie agenzie e associazioni c'è sempre un po' di difficoltà nel coordinarsi chiaro sì bene Annalisa volevi aggiungere qualcosa? sì volevo chiedere una domanda al volo se ci sono progetti specifici per i medici di medicina generale soprattutto per quanto riguarda come dicevi le vaccinazioni la gestione delle malattie croniche e come è cambiata la formazione o comunque l'esperienza dei medici di medicina generale alla luce del covid mi cogli un po' impreparato no nel senso che non sono a conoscenza di 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 questa esperienza però ok effettivamente potrebbe essere molto interessante per un core system mg anche partecipare al progetto jpo perché sicuramente è attinente da molti punti di vista potrebbe fare sia la parte clinica che quella di paulichelt sarebbe veramente molto interessante però sinceramente non conosco forse posso risponderti io nel senso che in passato abbiamo avuto delle richieste appunto da parte dei medici che stavano studiando medicina generale e come appunto come tipo di figura QAM le ha accolte nel senso che naturalmente è un tipo di esperienza che si sposa perfettamente con la vostra diciamo specialità chiamiamo così anche se è un po' atipica rispetto alle altre ma non abbiamo mai avuto l'approvazione da parte delle scuole di medicina generale non hanno mai approvato un periodo diciamo così lungo all'estero sebbene un periodo comunque formativo e seguito con tutore e quant'altro al momento non c'è stata un'apertura non è detto che non ci sia in futuro quindi dipende un po' anche dalla sensibilità dei direttori delle scuole per cui non è ancora mai partito nessuno come diciamo JPO e MMG però insomma si può tentare io intendevo non soltanto durante il corso ma anche dopo cioè a titolo già acquisito sì allora a titolo già acquisito può essere sì sì adesso io stavo parlando invece dell'esperienza come JPO sì sì ok ok grazie niente bene direi che se non ci sono altre domande possiamo chiudere grazie mille a Mattia e a tutti gli altri anche a tutti voi che avete promosso anche l'evento di stasera presso i vostri canali quindi anche a Federica Annalisa Alice e Marta quindi direi che insomma è stato molto interessante ascoltarti Mattia e grazie ancora per la disponibilità grazie a voi noi come al solito appuntamento mercoledì prossimo per chi vorrà collegarsi grazie a tutti ciao grazie a tutti ciao ciao grazie grazie a tutti grazie a tutti